Te vedi un ragno e gli porti via tutto, il risparmio, la casa e cosa tieni? Boh! Un ragno impoverito! Questo ragno impoverito lo prendi e lo metti dentro una scatola e adesso inizia a dimenarsi. Come si dimena? Prendi due figli e lo... Come si chiamano due ragazzi insieme? E colleghi! Lo colleghi a una dinamo! Questo movimento creerà un'energia che è 30.000 volte superiore a quella del sole, da cui io ho scritto la formula R vedi uguale a A per D per P. Eh, resistenza per intensità? Magari resistenza! Eh, ragno impoverito uguale a R vedi uguale, capito? Però c'è un problema, professore! Che problema? Non riesco a prendere appunti! E come mai? Eh, non lo so, il PC non va! Se il PC non va, vai tu! Dove? Ma dove? Da Bizzichizzi, in via Giovanni XXIII a Oristano! Volo! E va meno prima, apri la porta! Presso il Bizzichizzi trovi tutte le soluzioni che fanno al caso tuo, non solo in fatto di assistenza su PC. Il Bizzichizzi si occupa anche di fornitura hardware, computer, accessori, consumabili, creazioni siti web e assistenza pre e post acquisto. Lo vedi? Questo è il Bizzichizzi, qua trovi tutto! Ok! Andiamo! Lo vedi? Ci sono tutti gli accessori, ci sono le... come si chiamano quelle che si mettono in piscina? Non prenderà, quali capelli? Le cuffie! Le cuffie, ci sono le cartucce, i power bank, ma soprattutto ci sono i computer portattili, quelli fissi, ci sono i televisori, insomma c'è i... qual è il contrario di piccola? Grande! C'è grande varietà! Oltre all'informatica trovi telefonie e tv, articoli per l'ufficio, materiale di consumo, elettronica e videogiochi. Non solo, Bizzichizzi si occupa anche di progettazione e realizzazione lavori di cablatura per uffici e aziende in genere, realizzazione impianti di videosorveglianza e vanta un'esperienza pluriennale per quanto riguarda gli adeguamenti alle normative sulla sicurezza dei dati. Bizzichizzi, via Giovanni XXIII, 12, Oristano e primo piano centro commerciale Porta Nuova, Oristano. E qui in via Giovanni XXIII trovi anche l'angolo dedicato all'i-fi vintage. Bello! Non lo sapevi, vero? No. Tant'è vero che ho scritto una formula proprio in tal proposito che dice C uguale I per D per T. Calore uguale... Ma da calore, eh, chicca uguale, ignoranti te dimmi. Eh, non sai queste cose.